Ciao a tutti, Calcio Mercato Beach speciale Serie B, ritorna il contenuto che vi piace tanto, l'altra volta non mi siete piaciuti, col contenuto di A e di B c'erano tantissime notizie di Serie B, andatevi a recuperare quel video, ve lo lascio qua, perché mancavano i famosi 45 like per l'episodio entro 24 ore, il giorno dopo, quindi ve lo ripeto, 45 like oppure 10 iscritti e domani vi porto un altro episodio di Calcio Mercato Serie B subito, altrimenti se ne riparli i prossimi giorni, va bene, partiamo, partiamo, dai fate i bravi, 45 like sono veramente il nulla cosmico, partiamo dall'Ascoli che vuole puntare ancora una volta su Samuel Giovane dell'Atalanta, secondo quanto riporta Calcio Ascoli, la trattativa è vicina alla fumata bianca, si parla di dettagli, lo scorso anno il centrocampista classe 2003, appunto giovane, ha totalizzato, scusate, perdonate la battuta pessima, ha totalizzato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, quindi giovane dell'Atalanta è vicino al ritorno all'Ascoli, poi se l'Atalanta domani dovrei portarvi il contenuto speciale di Bogat e Traoré, vediamo, vediamo, appena arriva l'ufficialità anche di Traoré, ve lo porto, ve lo porto, ovviamente che se l'è stanotte no, io aspetto sempre le ufficialità prima di dire gatto se non ce l'hai nel sacco, come si suol dire, vabbè, battutaccia anche questa, poi lo Spezia, ve ne porto una adesso e una un po' più tardi, vuole rinforzare il reparto difensivo, secondo quanto riporta tutto sport, il nome preferito appunto per rinforzare la difesa sarebbe quello di Diachite della Ternana, poi Emil Audero potrebbe lasciare la Sampdoria appena le torcessi in Serie B, su di lui ci sono tanti club, ci sarebbe l'Inter, non solo l'Inter, si parlava anche di Fiorentina, Volendo e altre squadre, sempre Sampdoria, ha messo gli occhi sempre su un giovane centrocampista dell'Atalanta che è Simone Panada, che la scorsa stagione appunto ha vestito la maglia del Modena, come riporta tutto il mercato web, la trattativa tra i due club per il 2002 sarebbe veramente vicino alla definizione, quindi si discute sulla formula del trasferimento, si parla di prestito con diritto e contro riscatto a favore appunto dell'Atalanta, con i bruciarchiati che sperano di arrivare quanto prima alla conclusione positiva dell'operazione. Il Palermo, il Palermo sembrerebbe nelle ultime ore essersi piombato su Cedric Fiondato, non piombato, su Cedric Gondo che è tornato a Cremona per fine prestito, in lista alle pretendenti in alto c'è Lascoli che vorrebbe riportarlo appunto nelle Marche, situazione delicata, Ballardini aspetta di vedere anche il mercato in uscita appunto della Cremonese, ma appunto il Palermo si è affiondato su Gondo e pare una trattativa che non sia così da escludere. Sampo, la Sampo, la Sampo vi ho già detto prima di appunto di Audero e del giovane dell'Atalanta e adesso volevo solo fare una piccola parentesi appunto sulla Sampo, su ciò che è successo oggi di Ferrero, ancora Ferrero fuori contestato, ancora lì a provare a prendere due spicci, ragazzi veramente sta gente qui che ha il coraggio di tornare a farsi vivo dopo ciò che ha combinato, io ragazzi veramente non so come fanno i Sandoriani a resistere a una roba del genere, speriamo bene che vada tutto come deve andare perché vabbè, lasciamo stare perché cagliamo un velo pietoso. Allora, Gabrielloni, attaccante classe 94 del Como, pare che interessi parecchio al Cittadella di Edoardo Gorini, però vediamo, vediamo quindi sia il Como in uscita sia il Cittadella appunto, quindi due notizie, il Como che si libererebbe di Gabrielloni per darlo appunto al Cittadella. Dopo Zaro su Tirol rischia di perdere anche Curto, altro appunto giocatore di spicco degli Altotesini, come riporta TMV, lo Spezia è chiamato a sostituire Wisniewski, vedete che ritorno sullo Spezia, che starà fermo 6-8 mesi per infortunio, avrebbe appunto messo gli occhi sul difensore classe 99, che l'anno scorso ha fatto 37 presenze con due reti in campionato, fra stagione regolare e playoff, è un ottimo giocatore, può giocare come centrale come terzino a destra, su di lui pare che ci sia anche la Salernitana appunto, quindi non c'è solo lo Spezia, vediamo. Sempre per quanto riguarda il Cittadella c'è Antonucci che è arrivato alla Spezia, quindi ritorniamo al Cittadella alla Spezia, appunto pare l'affare fatto, cifra poco meno di 2 milioni di euro più bonus, pronti 4 anni di contratto e un'ennesima plus valenza per il club di Gabrielli appunto riporta Triveneto gol. Bari dopo la cessione di Caprile appunto all'Empoli tramite scambi col Napoli, robe strane della famiglia dell'Aurentis, non entriamo in merito, si prepara a salutare anche Chedira con l'Empoli del Genoa che sono seriamente interessate all'attaccante Italo Marocchino che vuole giocare in Serie A, vorrebbe giocarsi la Serie A, quindi vediamo come va a finire questa dolorosa sarebbe cessione per appunto il Bari. Como è lieto ad annunciare appunto l'ingaggio di Cone dal Torino con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto legandosi di fatto appunto ai Lariani fino al giugno 2027, centrocampista evoriano classe 2000, ha già collezionato 60 presenze in Serie B con le maglie del Cosenza, del Cortone e del Fosinone dove l'anno scorso appunto ha vinto il campionato facendo registrare 20 presenze e 3 gol, quindi Cone va al Como. Poi, Nicolò Schira che è una penna abbastanza attendibile sul calciomercato di Serie B dice che Catanzaro è vicinissimo all'arrivo Ambrosino dal Napoli, quindi come riporta appunto Nicolò Schira e Catanzaro potrebbe ufficializzare a breve l'arrivo dal Napoli di Giuseppe Ambrosino staremo a vedere, poi Cremonese, torniamo un po' alla Cremonese, Chiriches torna in Patria torna alla Stiau a Bucharest dopo 10 anni praticamente, quindi Chiriches saluta dopo tanto la Serie A Poi, Regina, c'è la suggestione destro per l'attacco dopo l'affare fatto di Roden praticamente quindi abbiamo la Reggiana, quindi Reggiana, Roden e sullo sfondo anche destro non è da escludere l'arrivo anche di destro per una Reggiana che non va da spese praticamente poi Como, contatti per Barba del Pisa, resiste la Cremonese all'assalto invece per Bianchetti quindi vediamo, vediamo anche il Pisa cosa combinerà poi chiudiamo il video con la notizia del Cosenza che ha chiesto al Verona il prestito di Ioselito quindi Cosenza chiede appunto al Verona il prestito di Ioselito mediano spagnolo classe 2004 anche questa notizia di Schira poi 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 dai finiamo in bellezza con appunto domani, ve l'ho già detto prima, anticipato ci saranno le visite mediche di Roden con la Reggiana mentre Polito, direttore sportivo del Bari, nega appunto che siano interessati a Gaetano e dice che non lo prenderanno quindi questa è proprio la last last minute delle 22.04 ragazzi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video 45 like oppure 10 iscritti e domani vi porto un nuovo episodio di Calcio Mercato Beach Serie B ci vediamo domani con altri video un abbraccio a vostro Monta, benvenuto a tutti i nuovi iscritti se vi piace il calcio, la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, l'europeo eccetera eccetera iscrivetevi al canale e ne vedrete delle belle rispondo a tutti, sono contento sempre di dialogare con voi anche se la pensiamo diversamente molto spesso un abbraccio a vostro Monta, ciao alla prossima, buonanotte